Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Insippili per lavori sul viadotto del turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al km 47 tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra il raccordo con la diramazione Lucca-Viareggio e Pisa Nord in direzione Pisa. Sulla diramazione Lucca-Viareggio coda per lavori tra il raccordo con la 11 e Massarosa verso Viareggio. Sempre sulla diramazione Lucca-Viareggio coda in uscita al raccordo con la 12 provenendo da Lucca. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti.